Nuove sorprendenti evidenze implicano che l'ordine gesuita sia la mente dietro all'inganno da cinque secoli. L'ultima chance del mondo presenta Terra Piatta, i Gesuiti e la cospirazione globale. Recenti scoperte hanno svelato dati, ordini del giorno ed obiettivi che collegano i Gesuiti con l'inganno massivo per il proposito multiforme dell'illusione della fine del tempo. Il disegno di questa profonda trama nascosta ha iniziato a cambiare la percezione delle masse per quanto riguarda l'autorità della Bibbia, la forma corretta della Terra, la struttura dell'universo e la posizione dentro ad esso del Creatore. Questo cambiamento della percezione ha preparato le menti per la travolgente illusione che arrivò nel mondo dopo la prima parete. La quinta tromba, profetizzata nella Rivelazione al capitolo 9, questa illusione sarà un attacco demoniaco col pretesto di una invasione aliena. Secondo un'osservazione di Vladimir Lenin, una bugia raccontata per molte volte diventa realtà. La frase che segue è il credo di molti. La Terra è una sfera, gira nello spazio mentre orbita attorno al Sole, sfreccia migliaia di chilometri orari dentro la nostra galassia chiamata Via Lattea. Questo credo è diventato così radicato che se uno parla di terra piatta, chi ascolta ridacchia. Il riflesso mentale di un piatto piano dove la persona potrebbe cadere dentro uno spazio infinito crea questa mancanza di rispetto. La Terra a globo, che non è mai stata provata, è pseudoscienza, che attualmente è creduta nell'intero mondo, trasmessa da generazione in generazione, e chiunque la mette in dubbio è deriso, è preso in giro. Per millenni le persone erudite hanno creduto che il mondo era piatto e che si trovava al centro dell'universo, protetto da una copertura. Nei primi del XVI secolo, Niccolò Copernico ha presentato un modello dell'universo differente, dove il Sole si trova al centro e la Terra gli gira attorno. Il modello eliocentrico di Copernico viene insegnato oggigiorno, mentre il modello geocentrico precedente è stato completamente rigettato. Meno di cent'anni dopo Galileo, venne perseguitato dalla Chiesa Cattolica per aver promosso la teoria di Copernico e venne forzato a ritrattare i suoi credo e spendere gli ultimi anni della sua vita agli arresti domiciliari. La persecuzione di Galileo per aver promosso l'eliocentrismo è sorprendente, quando la Chiesa Cattolica all'inizio supportava le teorie di Copernico. Analizzate i seguenti fatti. 1. Secondo alcuni fonti, si afferma che Copernico non ha mai preso i voti del sacerdozio, fu un chierico e non si sposò mai. 2. Inoltre, il fatto che nel 1537 il re Sigismondo Polacco l'avesse nominato nella lista dei quattro candidati per il posto episcopale della Varnia rende probabile che, almeno a tarda età, sia entrato nel sacerdozio. 2. Quando il Papa Paolo III incontrò Copernico per i consigli di come riformare il calendario, Copernico all'inizio esitò nel rispondergli. In seguito scrisse una serie di lettere al Papa che contenevano accurate osservazioni le quali servirono veramente, 60 anni dopo, come base per sviluppare il calendario gregoriano. 3. Per molto tempo Copernico si rifiutò di pubblicare i suoi credo sull'universo eliocentrico, ma alla fine, nel 1531, pubblicò un breve sommario dichiarando la sua teoria in sette assiomi. Da qui il concetto si diffuse rapidamente. 4. Due anni dopo, Albert Windmanstad tenne una conferenza sul modello copernicano in presenza del Papa Clemente VII, un'azione per cui venne veramente ricompensato. 5. Nel 1536, il cardinale Schoenberg, che era arcibescovo di Capua, sollecitava Copernico di pubblicare per intero la sua teoria, o perlomeno di avere una copia a spese dello stesso cardinale. 6. Fra il 1539 del 1541, Copernico pubblicò e distribuì una lettera di 66 pagine ed un capitolo preliminare. 7. Copernico spiegò in una lettera al Papa Paolo III, che alla fine decise di cedere alle insistenti esortazioni del cardinale Schoenberg, vescovo Gies di Colm, ed altri uomini ben informati, e convenne di pubblicare i suoi manoscritti. La teoria di Copernico, di un universo eliocentrico, era ben conosciuta negli strati superiori della Chiesa Cattolica durante la sua vita, ma, anche se preferiva che le sue teorie fossero pubblicate dopo la sua morte, accettò di pubblicare i suoi manoscritti sulla pressione persistente degli altri ufficiali ecclesastici. I cattolici non furono i primi a rifiutare le vedute di Copernico, e loro stessi hanno ammesso. All'inizio ci fu un sollevamento con opposizione contro il sistema di Copernico da parte dei teologi protestanti per ragioni bibliche. La Chiesa Cattolica sostenne il modello eliocentrico di Copernico, pressandolo, di diffonderlo all'estero, insieme ad altre teorie opposte alle sacre scritture. La necessità di cambiare la pubblica concezione, da un credo accurato di una terra piatta e racchiusa, ad un falso credo, lentamente crebbe. Con piccoli passettini, l'intero mondo sarebbe diventato una miniera per l'illusione finale di un'invasione aliena sotto il primo muro. La Gerarchia Cattolica ha l'opportunità perfetta per posare il lavoro di base di un inganno globale che culmini in questa generazione finale della Terra. Questo inganno richiede un globo terrestre che giri attraverso un vasto e steso spazio, uno spazio abitato da alieni e da altre forme di vita senzienti. E questi espedienti creano dubbi nella Bibbia, mettendo la scienza davanti alle scritture che suggerivano l'umanità che la Terra era racchiusa e che non si muoveva. Inoltre hanno piazzato il Creatore molto lontano dalla sua creazione, presentando un universo in una vastità inimmaginabile. Per ingegnare questa trasformazione in credo, la nuova creazione della Società di Gesù, conosciuta comunemente come Gesuiti, divenne l'Agenzia per il Cambiamento. La Chiesa Cattolica Romana intraprese guerra contro i credenti del protestantesimo che uscirono con il loro proprio sistema, mentre Copernico resisteva alle richieste di pubblicare le sue teorie del sistema solare eliocentrico. Con l'approvazione del Papa Paolo III venne stabilito l'Ordine dei Gesuiti nel 1540 e Copernico dedicò il suo libro sulla rivoluzione dei corpi celesti a questo Papa. Questo nuovo ordine, uno strumento perfetto per addempiere un'operazione clandestina per il Papa di Roma, iniziò a cambiare la percezione con autorità sulle scritture, sulla Terra e sul Creatore, attraverso la rivoluzione di Copernico. Gli insegnamenti intenzionali ai loro seguaci era invitare spiriti demoniaci dentro gli spiriti umani. I Gesuiti mostrarono di che tipo di umanità ognuno fosse veramente. Il fondatore dei Gesuiti, Ignazio di Loyola, insegnò a tutti i membri della società di Gesù alcuni esercizi spirituali che praticamente facevano di loro degli schiavi di Satana controllati mentalmente. In un giorno diventavano salme o cadaveri in grado di ubbidire senza esitazione al volere dei loro superiori. Aprendo la mente all'influenza dei demoni, questi Gesuiti portavano dentro uno spirito di malevolenza, un'intelligenza demoniaca senza precedenti nel Cattolicesimo. In quel momento, controllati satanicamente, i preti Gesuiti ebbero successo in ogni tentativo malvagio. Essi divennero infami per le loro capacità di inganni e sotterfugi. La loro abilità era infiltrarsi nei governi e nelle istituzioni per insegnare. Facevano da consulenti dei re e ai dirigenti dell'educazione. La vera influenza che esercitavano era uguale e sormontava su tutta l'umanità. Lavorando tramite entità governative e nei campi mondiali dell'educazione, essi guidavano le ricerche scientifiche all'interno dei loro propri fini, presentando la più grande bugia di tutti i tempi, la Terra a globo. A seguito delle pubblicazioni di Copernico, è probabile che l'ordine gesuita abbia generato più astronomi rispetto ad altre zone demografiche in Europa. Questo ordine religioso, apparentemente, era in grado di formare così tanti scienziati che diventava una sorpresa. Tuttavia, se questi scienziati si sono concentrati quasi esclusivamente in una sola area, ciò diventava motivo di essere messi in dubbio. Sopra il rifiuto delle sacre scritture che insegnava che la Terra è un oggetto fisso ed immobile sotto una copertura di protezione, fu stesa una fondazione nefasta. Sopra questo si costruì perversione con lo scopo di forzare l'umanità a dubitare del vero mondo del nostro padre Yahshua. Rigettando il modello geocentrico biblico, si richiedeva una nuova spiegazione. Una Terra a globo che orbita il Sole a milioni di miglia ogni anno, un reame di spazio immenso con miliardi di galassie, ognuna delle quali è composta da miliardi di stelle che hanno innumerevoli mondi. Tutto questo divenne necessario per spiegare il nuovo modello heliocentrico dell'universo e l'umanità in poco tempo perse il proprio significato divino. Da quel momento venne creato un ambiente che, grazie agli scritti di Charles Darwin, trova un pubblico ricettivo. Uno scienziato che mostra la Bibbia sbagliata, che la scredita così da dividere, grazie alla religione, tutti quanti all'unisono. Immediatamente tutto diventò possibile. Non c'era alcuna domanda da fare. incluso come doveva apparire la Terra nella vastità dello spazio con tutto il resto, oltre all'esistenza degli extraterrestri. La teoria del Big Bang, oggigiorno, è la spiegazione principale di come è iniziato l'universo. Nella sua semplicità, parla dell'universo, come sappiamo, che è iniziato da una piccola singolarità che poi si è gonfiata nei successivi 13,8 miliardi di anni nel cosmo che conosciamo oggi. Il sacerdote Enzo Pinsent, che aveva lauree avanzate in teologia all'Università Pontificia Gregoriana di Roma, col dottorato nelle particelle di fisica ad Oxford, nel gennaio 2015, scrisse Essendo sia sacerdote che ex fisico di particelle al CERN, sovente mi chiedono di tenere discorsi sulla fede e sulla scienza. Spesse volte i giovani mi fanno la seguente domanda «Come può essere un sacerdote e credere nel Big Bang?» E sono lieto di rispondere «L'abbiamo inventato noi!» o più precisamente il sacerdote George Lemaître ha inventato la teoria che oggi è chiamata il Big Bang e tutti quanti dovrebbero sapere di lui. L'autore della teoria del Big Bang non era altro che un prete gesuita qualificato, George Lemaître. Il 28 ottobre 2014 Sarah Kerr riportò «Parlando con i membri dell'Accademia Pontificia della Scienza, il Papa ha detto che è possibile credere in tutte e due, insistendo che Dio è stato il responsabile del Big Bang da dove si è evoluta tutta la vita. «L'inizio del mondo non è opera del caos che deve a un altro la sua origine, ma deriva direttamente da un principio supremo che crea per amore. Il Big Bang che oggi si pone all'origine del mondo non contraddice l'intervento creatore divino ma lo essisce. L'evoluzione nella natura non contrasta con la nozione di creazione perché l'evoluzione presuppone la creazione degli esseri che si evolvono». Seguiamo la causa ed effetto. 1. Senza una terra globo che gira attorno al sole attraverso una grande distanza nello spazio non si ha il Big Bang. 2. Senza il Big Bang non si ha l'evoluzione. 3. Senza l'evoluzione siamo molto più propensi ad accettare la creazione come atto di un disegno intelligente da parte di un divino creatore. La Chiesa cattolica romana in fin dei conti accetta l'evoluzione. L'accettazione dell'evoluzione e la sua legge integrale della sopravvivenza del più forte ha portato al bagno di sangue del XX secolo dove milioni hanno perso la loro vita. numerosi ricercatori hanno stabilito collegamenti incontrovertibili fra il Vaticano ed il partito nazista. Indipendentemente dal livello di collaborazione fra il Vaticano ed i nazisti che cosa è accaduto dopo la seconda guerra mondiale è ancora più significativo. L'operazione Paperclip fece entrare clandestinamente centinaia di scienziati nazisti inclusi alti ufficiali della SS condannati per crimini di guerra negli Stati Uniti per utilizzarli in America nella guerra fredda e nella corsa allo spazio. Uno di questi membri del partito nazista Werner von Braun è stato promosso per dirigere il centro di volo spaziale Marshall della NASA. Nell'operazione Paperclip a 350 scienziati tedeschi ed ex agenti segreti sono stati forniti visti e lavori ben pagati. molti di questi scienziati hanno un passato discutibile. Lo stesso Braun è stato un membro attivo del partito nazista ed il suo collega alla NASA il dottor Hubert Stroghhold uno specialista in medicina dell'aviazione ha condotto esperimenti su detenuti nei campi di concentramento. A proposito di questa impresa imponente ed illegale sembra sia stato per stabilire un'autorità mondiale su tutte le cose riguardanti lo spazio e l'astronomia. La NASA è diventata la figura pubblica dello spazio. Ha agito da lungo tempo come fonte principale ed insospettabile nel mondo con la pseudoscienza legittimata col supporto del governo degli Stati Uniti. La NASA è il suo stesso monopolio. Controlla la disseminazione dell'informazione pubblica e dell'astronomia nascondendo fatti che non vuole che il pubblico conosca. Sebbene molte nazioni ed università possiedono osservatori sono sempre le dichiarazioni le fotografie e le scoperte della NASA che fanno i titoli di testa delle novità. Con la NASA a carico del flusso delle informazioni astronomiche per il pubblico sembra che il Vaticano sia il giocatore centrale in quella che è veramente l'astronomia accurata che non viene rilasciato al pubblico. Per centinaia di anni il Vaticano ha posseduto più telescopi ed osservatori rispetto a qualsiasi organizzazione università privata o governo. La NASA ed il Vaticano possiedono insieme Lucifer il più grande telescopio binocolare del mondo. Secondo la pagina ufficiale del web Vaticano l'osservatorio Vaticano è una delle istituzioni astronomiche più vecchie del mondo. E adesso dove sono le fotografie? Dove si trovano le nuove pubblicazioni delle ultime scoperte? Precisamente cosa hanno fatto gli astronomi gesuiti negli ultimi 500 anni? Solo loro lo sanno. le nuove relazioni pubbliche rilasciate dalla NASA che promuovono l'idea di un universo che si espande sempre più e che diventa sempre più grande di una vastità incomprensibile ha portato a supporre che possano esistere vite aliene su altri pianeti. Dopotutto se il Big Bang ha prodotto la vita sulla Terra come potrebbero non essersi evolute altre vite intelligenti altrove? In combinazione con Hollywood grazie al genere della fantascienza la NASA ha creato un ambiente dove il contatto con una nuova forma di vita extraterrestre può essere spaventosa e desiderabile. Un recente libro ha la chiave per comprendere il passo finale in questa lunga cospirazione per illudere la generazione finale. Lo scrittore Tom Horn e Chris Putnam hanno pubblicato recentemente un libro sconvolgente dove presumono che il Vaticano stia cercando attivamente vita extraterrestre con il loro nuovo telescopio Lucifer. Nel libro Exo-Vaticana Pietro Romano progetta Lucifer ed il sorprendente piano del Vaticano per un salvatore alieno. Asserisce che il Vaticano attende un salvatore extraterrestre. Nelle ricerche del loro libro Orr e Putnam è stata concessa la garanzia di permesso per visitare l'osservatorio sul Monte Graham che ospita la tecnologia avanzata del Vaticano VAT nel settembre 2012. Non solo sono stati capaci di discutere lo studio dello spazio profondo con gli astronomi gesuiti ma hanno guadagnato anche l'incontro con uno degli astronomi più in auge del Vaticano di Roma. Orr dice che il fratello Guy Consolmagno nominato astronomo papale ha raccontato all'autore alcune informazioni sbalorditive durante le cinque interviste. Ha detto senza giustificazione che molto presto le nazioni del mondo vedranno negli alieni i loro salvatori ha detto Orr. Consolmagno ha consegnato inoltre all'autore dei documenti privati del Vaticano che rivelano molto sul pensiero dei teologi di alto livello e degli astronomi all'interno della Chiesa. Orr ha detto che questi documenti mostrano che loro credono che presto saremo visitati da un salvatore alieno di un altro mondo. Questa dichiarazione non è solo scioccante ma la continua evoluzione della presa di posizione della scienza e dello spazio si comprende. Il 14 maggio del 2014 Papa Francesco espresse la volontà di battezzare gli extraterrestri il che indica il desiderio per il battesimo. Ovviamente il commento era chiaramente particolare ma è diventato il titolo principale internazionale è quello che porta in trionfo il Papa così intrepido da voler a battezzare i marziani. L'effetto successivo rimosse l'idea dalla fantascienza trasformandolo nella reale nel reame delle possibilità parlando di questo come se fosse possibile fa crescere nelle menti l'abituarsi di questa edificazione. Dopo che il Vaticano ha ospitato la conferenza di cinque giorni sulla vita extraterrestre il sacerdote cattolico Jonathan Morris è apparso alla Fox News rispondendo ad alcune domande come cambierà l'insegnamento se considera un momento se stabilita che esistono vite extraterrestri là fuori bene una cosa è che può essere affascinante non solo per la vita extraterrestre ma una forma di vita con intelligenza extraterrestre questo ci porta definitivamente indietro e forse la nostra comprensione della verità perenne ha bisogno di essere aggiornata ora il mondo di vedere è non si tratta se Dio era il creatore ma come ha creato non si tratta della questione del peccato originale questa è una storia di Adamo ed Eva che sia vera o no ma la nostra comprensione è come è stato messo in atto una crescita della nostra comprensione sulla verità perenne questa è una spiegazione interessante ma penso anche se è stato determinato il padre sarà un terremoto potrebbe essere questo specialmente se il Vaticano è stato coinvolto accettando quello che interroghiamo la cosmologia della terra spesso porta le persone a dubitare delle scritture e del suo autore e prepara la strada per il travolgente inganno profettizzato nella rivoluzione al capitolo 9 precedentemente si dichiarava la gerarchia cattolica ha presentato una perfetta opportunità per stendere le fondamenta per un inganno globale che culmina nella generazione finale il proposito di questo intricato inganno su più livelli è ingannare le masse del mondo per creare e desiderare un risultato per far entrare nel mondo una religione mondiale unita col Papa che regna sovrano il diavolo creerà un problema questo problema fra i cittadini della terra richiederà una soluzione la soluzione avrà una conseguenza predeterminata il nostro saggio creatore ha rivelato a queste combinazioni dell'inganno nella rivelazione 9 poi suonò il quinto angelo e io vide una stella caduta dal cielo sulla terra e adesso fu data la chiave del pozzo dell'abisso ed egli aprì il pozzo dell'abisso e dal pozzo salì un fumo simile al fumo di una grande fornace ed il sole e l'aria furono oscurati dal fumo del pozzo e dal fumo uscirono sulla terra delle lucuste e fu dato loro un potere pari al potere che hanno gli scorpioni sulla terra e fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra né alcuna verdura né alcun albero ma soltanto agli uomini che non avevano il sugello di Yahuwah in fronte e fu loro comandato di non ucciderli ma di tormentarli per cinque mesi ed il tormento che cagionavano era come quello prodotto da uno scorpione quando ferisce un uomo e in quei giorni gli uomini cercheranno la morte e non la troveranno e desidereranno morire ma la morte fuggirà da loro e dette loro il potere di danneggiare gli uomini per cinque mesi ed avevano un re sopra di loro l'angelo dell'abisso il cui nome in ebraico è Abadon e nella lingua greca il suo nome è Apollyon la chiave per rivelare questa profezia si trova nella frase pozzo senza fondo dalla parola greca Abussus tradotto anche profondo in Luca 8.31 i demoni supplicavano di essere inviati in mezzo ai porci anziché tornare nel pozzo dell'abisso lo stesso per la parola in inglese abis le stelle cadevano dal cielo è riferito a Satana e quando gli sono state date le chiavi del pozzo dell'abisso egli rilasciò orde di demoni sulla terra che apparivano come un'invasione di alieni dallo spazio il primo muro questi angeli malvagi come extraterrestri avranno un'apparenza distinta e lanceranno un attacco orribile alla terra che durerà letteralmente 150 giorni le trombe sono sia un solenne avvertimento che un clemente invito avvertono che la prova finirà presto ed invita tutti quelli sulla terra di accettare Yahuas il dono per la vita eterna quelli che odono le trombe suonare mostrano la loro amabile gratitudine vivendo in conformità col volere di Yahuas ed ubbidiscono a tutti i requisiti della sua legge divina incluso il quarto comandamento le trombe sono un dono d'amore per questi santi vivi di Yahuas che alla fine della prova si troverà alla vista del santo Elohim senza alcun intermediario almeno 2000 anni fa molto prima dei romani cattolici e dall'apparizione dei gesuiti questa serie di eventi era stata predetta la conoscenza incetibile del nostro padre non rafforza veramente la nostra fede il giusto vedrà le trombe spiegarsi come profetizzato ed il suo coraggio si fortificherà saranno guidati costantemente facendo affidamento alle sue promesse colui che non può mentire sappiamo che l'invasione aliena è un problema costruito naturalmente un rappresentante dell'umanità sarà scelto per negoziare un trattato di pace con questi invasori la soluzione sarà predeterminata e sotto il controllo diretto dello stesso satana francesco l'ottavo ed ultimo papa si farà avanti per negoziare questa pace totale un gesuita arrivato sotto il diretto controllo dei demoni attraverso la via degli esercizi spirituali di ignazio di loyola francesco ha precedentemente assicurato che ha legami amichevoli con tutte le religioni così ci sarà una scelta logica con la rappresentante dell'umanità che stabilirà un trattato di pace con questi invasori da fuori dallo spazio questo trattato sarà uno fine fine della guerra esattamente 150 giorni dall'inizio due mettere il papa a capo del nuovo ordine mondiale come rappresentante dell'umanità tre mettere il papa come salvatore dell'umanità a capo del nuovo unificato ordine mondiale e religioso come salvatore del mondo il papa di seguito si troverà nella posizione perfetta per stabilire un comune giorno di culto per tutti domenica calcolato dalle persone secondo il calendario gregoriano questa unificazione sotto un unico governo ed una sola religione apparirà logico per quelli ancora più desiderosi di avere un traditore della pace in un mondo peccaminoso anziché vivere nel mondo del loro creatore che portava alla vita eterna questi desiderano solo una strada per uscire e si uniranno e rinforzeranno il nuovo unico ordine teocratico tutti i capi di stato porranno la loro sovranità sul papa come è esplicitamente enunciato nelle scritture e le dieci corna che tu hai visto sono dieci re i quali non hanno ancora preso il regno ma prenderanno podestà come re in uno stesso tempo con la bestia costora hanno una sola mente e daranno la loro potenza e podestà alla bestia questo è l'evento che inizierà la lotta finale finale tra le forze del bene e del male sotto la minaccia della continua aggressione extraterrestre le persone del mondo si uniranno insieme per intraprendere una guerra implacabile contro tutti quelli che porteranno la verità della Bibbia i pochi consenzieni che metteranno la parola di Yahweh al di sopra di tutti i mandati della terra saranno visti come individui rinnegati la libertà di religione individuale sarà sacrificata per la definita sicurezza promessa è meglio che pochi periscano anziché l'intero mondo sia precipitato dentro la sofferenza sotto la continua aggressione aliena quando il quinto segillo sarà aperto Giovanni vide sotto all'altare le anime degli uomini uccisi per la parola Yahweh e per la testimonianza che hanno portato e gridarono con gran voce dicendo fino a quando Signore Santo e verace non fai tu da giudice non vendichi il nostro sangue sopra coloro che abitano la terra la risposta data fu potente e prefigurando l'intensa persecuzione che poteva arrivare sul giusto sotto il primo muro durante quel tempo molti saranno martirizzati per la loro fede visto che si rifiutano di riunirsi col mondo malvagio per adorare il giorno che rendeva omaggio a Satana il grande ingannatore e ad ognuno di loro vennero dati vestiti bianchi e fu detto che potevano riposare per una breve stagione finché i loro servi seguaci di loro fratelli dovevano essere uccisi come loro fin tanto non fossero soddisfatti per 500 anni per 500 anni questa cospirazione gesuita ha insegnato la storia della terra globo che circunnaviga il sole il quale gira attorno in centro ad una immensa galassia che allo stesso modo sfreccia insieme a miliardi di galassie attraverso uno spazio senza limite dentro questo regno immenso sicuramente esistono altre varietà di vite intelligenti che abitano altri mondi il culmine di queste bugie con l'invasione di extraterrestri profetizzato nella rivelazione 9 l'ultimo atto che accadrà quando Francesco rappresentante di Satana assumerà il comando del mondo mentre negozierà il trattato di pace a nome della razza umana con gli angeli caduti poi Satana avrà realizzato il suo grande obiettivo di regnare la terra la prima parete rivela la sequenza di apertura degli eventi sul gioco di Satana per ingannare il mondo per secoli i gesuiti hanno lavorato per convincere la razza umana che il mondo è tondo questo papa gesuita unisce l'umanità in un'infamia tutti sotto un unico governo ed una religione nessuna delle quali conosce la bellezza della vita eterna e questo è così vicino alla seconda venuta di Yahshua il messia del mondo poi il papa Francesco si troverà di fronte a quelli lasciati sulla terra come il loro principale benefattore la verità è un'invasione extraterrestre non è possibile dentro una terra racchiusa nessuno cadrà per questa illusione chiara nelle scritture e spiritualmente corretta nel comprendere la disposizione della nostra terra e dell'universo di Yahshua le persone che conoscono la verità comprenderanno rapidamente che qualsiasi apparenza extraterrestre nel nostro sistema chiuso saranno solo dei demoni ogni tentativo per sistemare il papa capo di una religione unificata mondiale sarà notoriamente un fallimento il papa non sarà mai accettato come il salvatore della razza umana di un trattato di pace arrangiato da demoni le masse vedranno Francesco cospirare con gli angeli caduti e girerà via da lui con orrore adesso la prima parete è solo l'inizio un'altra sola apertura di salvezza al culmine di queste ere pone le fondamenta per una frode ancora più grande che seguirà subito dopo velocemente assicuratevi di vedere il prossimo video di questa serie il capolavoro del diavolo la contraffazione della seconda venuta la contraffazione la contraffazione la contraffazione Grazie a tutti.